ciao ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale cantare libertà eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte oggi siamo in compagnia di giovanni di gioia un giorno che ci aiuterà nella canzone di marco menconi vincitore di san reno del festival di sanremo 20 23 che questo poi negli anni rimane quindi essere del 20 23 con la canzone due rite due rite dopo la sigla bene ragazzi questa canzone si compone di tre accordi all'inizio che sono re maggiore e questo il do re fa diesis la re maggiore poi andiamo indietro troviamo il sol maggiore così la sol si re e poi avremo il si minore quindi si re fa diesis e la canzone fa un piccolissimo intro e inizia così siamo soli sveli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto forse un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo siamo fermi in un tempo così che solleva le strade con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate dovrei telefonarti dirti le cose che sento ho finito le scuse e non ho più difese siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra il caffè con limone contro l'angolo è sempre una fotomossa e siamo fottuti ancora una notte fuori un locale e meno male bene come vedete qui c'è un nuovo accordo che è il la maggiore che lancia il ritornello quindi la do diesis mi e poi ci sarà soltanto un nuovo accordo che è il mi minore quindi mi sol si con cui parte proprio il ritornello che conosciamo tutti se questa è l'ultima canzone poi la luna sfoderà sarò via a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai qui non arriva la musica e tu non dormi e dove sarai dove vai quando la vita poi esagerà tutte le corse gli schiaffi gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita tanto lo so che tu non dormi 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 mai che giri fanno due vite poi ci sarà ancora Sofa e il ritornello insomma la canzone però resta sempre con gli stessi accordi bene ragazzi come abbiamo visto anche questo è un brano semplice da suonare al pianoforte io ringrazio Giovanni ringrazio Mario per averci aiutato in questa avventura mengoniana e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanella così non ricordo a volte esce un video nuovo potete guardarlo subito inoltre se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è un video che ho realizzato che spiega come poterlo fare quindi vi lascerò il link in descrizione in modo che potete dare un'occhiata e imparare a farlo ok ciao ciao alla prossima grazie a tutti